Buongiorno agli amici di Orchidee Mania, sono Enrico Vincenzo di Albenga e coltivo orchidee da 50 anni. Questa passione mi è venuta in terza media andando con una gita scolastica alle vedere l'istituto professionale di Sant'Ilario sopra Nervi. L'anno dopo a mio padre ho fatto comprare le prime 10 piante di Cimbidium, che è quello che vediamo sulla destra. Una volta questo tipo di orchidea si vendeva recisa a rami, ora il mercato è cambiato, si vende quest'altro tipo di orchidea, il mini Cimbidium, che è meno voluminoso, e si vendono i vasi con 2, 3 o più steli. Partiamo da una piantina così, una piantina così ha già un anno, e arriviamo ad avere una pianta con 2 o 3 steli nel giro di 2 o 3 anni. Siamo in un altro ambiente, vi presento le altre 3 specie di orchidee che coltiviamo nella nostra azienda. Davanti vediamo 2 varietà di Miltonia o Miltoniopsis, e dietro 3 varietà di Cambria o Odontoglossum. La Miltoni è appena cominciata, la produzione va da aprile a luglio, le varietà poi sono diverse che man mano fioriscono. La Cambria fiorisce più o meno tutto l'anno, e quindi ci sono anche altre varietà che fioriscono prima o dopo di queste. Altro prodotto importante dell'azienda è la coltivazione delle Falenopsis. Le coltiviamo di 3 tipi, un tipo nel vaso 9, che vendiamo col suo vasino dedicato in ceramica, un tipo nel vaso 12, a cui pieghiamo il ramo e formiamo questa forma molto armonica, che si chiama cascade, e il terzo tipo nel classico vaso sempre del 12, con 2 steli, a volte 3, a volte anche ramificati. Vi ricordo che siamo aperti in azienda dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30, dalle 14 alle 19.30, esclusi i festivi. Vi ricordo che vendiamo al pubblico, vendiamo anche tramite Corriere in tutta Italia, consegniamo al Benghe dintorni, in azienda potrete trovare, oltre a me, anche la Marisa, la mia adorata Marisa da 42 anni, che è molto brava anche lei nella coltivazione delle orchidee. Ho finito, grazie a tutti gli amici di Orchidee Mania, e arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.